1.300.000 euro per due progetti finanziati dalla Regione che consentiranno all'ente porto di Giulianova di realizzare una serie di interventi che miglioreranno i servizi all'interno del bacino portuale a vantaggio sia della marineria sia del settore di portistico. Opere che dovrebbero iniziare a breve, non appena l'iter burocratico sarà completato perché la disponibilità del finanziamento già c'è. Si faranno una serie di interventi molto importanti in due direzioni, uno a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori del mare e l'altra in direzione di una più accentuata politica ambientale. Alcuni interventi infatti riguardano il tettoio per poter permettere ai marinai di riparare le reti in condizioni più umane, rimessaggi, ma anche un sistema fognario, la realizzazione di due bagni, isole ecologiche che permetteranno finalmente di tenere il porto più pulito e poi abbiamo deciso di cambiare il sistema di illuminazione di 12 torri faro inserendo il sistema di illuminazione a LED. Tra le opere da realizzare anche il rifacimento del manto di asfalto, l'introduzione di un sistema tecnologico che consentirà ai pescatori di distendere i cavi delle reti per pareggiare la lunghezza, l'ente porto è riuscito ad intercettare i finanziamenti partecipando a due bandi regionali. Noi abbiamo praticamente vinto due bandi della regione, uno per circa 950 mila euro e l'altro per circa 350 mila euro e quindi siamo assolutamente soddisfatti. Stiamo terminando la parte, è rimasta per il primo blocco di interventi soltanto la procedura dell'autorizzazione del comune per costruire, che è già stata avviata comunque, del secondo bando che è stato più recente stiamo acquisendo tutti i necessari pareri, ma in ogni caso abbiamo già le concessioni della regione e quindi assolutamente non si parla di interventi prevedibili, si parla di interventi certi.